ciao a tutti e benvenuti in un altro video dedicato alle lol surprise lol surprise omg sono arrivate nei negozi le omg light quindi queste sono ancora altre lol nuove rispetto alla seconda serie perché queste qui diciamo con una pila essendo al buio dovrebbero illuminarsi allora ci sono quattro differenti bambole allora vediamo groovy baby speed tester dadle io ho preso la speedster perché ai capelli biondi e mi piace molto questa sarebbe la sua sorellina piccola la scatola è molto bella ai colori fluorescenti ed è più piccola rispetto alle normali scatole delle omg ok ma dice di tirare qua quindi il movimento sarà sempre quello eccola qua qui abbiamo la nostra bambola molto bella eccola poi poi si sta rompendo tutta la scatola perché più di così non si apre la scatola è diversa non ha il movimento vabbè l'apro così altrimenti si fa no allora andiamo un po' la bambola è sigillata non si è nata però qui ecco qua ecco la nostra bambola in effetti la scatola è più piccola perché comunque non c'è l'armadio non c'è tutto quello è una scatola normale ecco dentro è una scatola normale non c'è nulla niente di particolare boh andiamo non c'è nulla non c'è nulla eccola qui come cellina la nostra bellissima abbiamo detto speedster porta questi capelli biondi così col cocco c'è il rossetto metà arancio e metà rosa e anche l'ombretto rosa poi ha un tatuaggio sia allora sul braccio qua a il tatuaggio delle bandiere tipo quelli la da formula 1 di qua c'è un altro tatuaggio con la scritta bb poi porta questo tipo leggings corto un po florescente con il pantaloncino e il topicino è tutta fluorescente e questi super stivaloni un po particolare che in effetti poi mettendo la luce dovrebbe fare un colore florescente eccola qui apriamo questo anche queste florescente cosa ci troviamo la giacchetta un modello formula 1 la giacchetta anche questa con dei colori fluorescenti metà arancio e metà fragola anche la spazzola florescente mentre la base stranamente tutta bianca due scatole nelle omg mentre in questa ne abbiamo una sola vediamo cosa si trova che c'è la scatola anche più piccola allora abbiamo questi occhiali a fiamma e questo forse questa è la pila perché ci porta la batteria vicino può essere ma facciamo una cosa mettiamoci un attimo alla giacca che c'è sempre il problema delle mani che devo staccare anche lei ha lo smalto lo smalto arancio era meglio che ce la metteva ma già l'ora così evitavo di visto che sta già vestita evitavo di staccare le braccia ecco qua bene ok così la giacchetta va così ma orecchini nulla non ci sono orecchini non c'è niente c'era altra roba allora questo che cos'è no si mettono alle mani quindi devo toglierci le mani penso come si mette come faccio a mettere i guantini alle mani vabbè così ce li metto dopo sarà impossibile allora gli orecchini invece i guantini sono questi qua giallo forse fa recente ma ci vuole due ore quindi con carlo gli orecchini sono così grassi grassi a forma di freccia ma gli orecchini ce li metto infatti ho visto che porta c'è al buco all'orecchio tutto ma gli orecchini dove stanno visto che il buco c'è diciamo la verità tutte le omg portano gli orecchini quindi era un po strano che questo non ce l'avete stavano nascosti ecco qua bene adesso voglio vedere il fatto della della fila quindi allora adesso faccio una cosa abbassa la serranda e vediamo cosa succede alla bambola eccola sì quindi quella anche i guantini saranno fosforescenti sicuramente ecco l'acqua eccola qui ok vabbè abbiamo visto anche il trucco si vede un trucco particolare sotto mentre prima alla luce normale non si vedeva molto molto bella e particolare ok io spero che questo video vi sia piaciuto vi do un bacione alla prossima ciao ciao